E' tornato nella sua città un personaggio straordinario, Awanagana. Allora, come hai ritrovato Venezia? Bene, io vengo non spessissimo, una o due volte all'anno, in queste buone terre di Venezia. L'ho ritrovata un po' strana, cambiata, come cambia il mondo, come cambiano tutte le città, come cambia... Io vivo da 50 anni al Principato di Monaco perché ero sceso da Parigi nel 72 col contratto di Radio Monte Carlo. E lentamente cambia la Francia, cambia Monaco, cambia Venezia e bisognerebbe dargli una buona mano. Antonio Costantini Bicardi, meglio conosciuto con il famoso nome d'arte Awanagana, presentatore showman per decenni volto e voce di Radio Monte Carlo, si fa prendere da un pizzico di nostalgia e torna in Laguna. Scegliere o mantenere una determinata struttura o aprire agli anni 2000-3000 la città. Quindi o scegliamo, non si può avere, non dico turismo di massa, ma delle strutture e infrastrutture che diano accesso a tutto e a tutti. A Venezia anche per un importante progetto artistico e culturale, con l'amico e scultore veneziano Giorgio Bortoli. Per vedere di portare i mattoni del campanile anche nel Principato. Per portare la scultura che ho presentato in Piazza San Marco e poi all'Accelsior, del campanile con le pietre e quindi fare una mostra proprio mirata sul campanile e sui vecchi pezzi, i vecchi mattoni. Grazie a tutti.